Grazie. 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 Campionato di A1. Attenzione quindi. Io inizio a salutare i miei compagni di avventura, quindi chi vi ha parlato poi ve lo dirà. Lo dico io dopo. Io intanto saluto Cassio Peti che mi aiuterà in questa telecronaca. Siamo qua. E Davidino? Poi abbiamo il Davidino, Davide Bianchi alla regia tecnica. E lui? Il Davidone quindi Davide Cenci alla telecamera. E quello che vi ho appena parlato è il mitico Luca Basile. davidino stasera ha delle ottime cuffie rosa che con tiktok renderebbe molto anche perché effettivamente di questi tempi quelle tipi di applicazioni si possono utilizzare visto che negli Stati Uniti tra un po' non si potrà più fare ma torniamo allo 0-0 non si potrà più scaricare né WeChat né tiktok squadre ponte a entrare in campo Cassano con la consueta divisa Maranto quest'oggi con gli inserti bianchi quindi la versione chiara mentre per il cingoli divisa nera tenuta tenuta nera portieri verdi per il Cassano e gialli per i cingoli gli arbitri andiamo subito a recuperarli è giusto salutarli e citarli quindi abbiamo Fabio Bocchieri e Nicola Scavone gli arbitri dell'incontro coadiuvati al tavolo dal commissario Dario Fabian benvenuti nel pianeta a pallamano ricordiamo che invece le ragazze hanno scontato il loro turno di riposo quindi questo weekend non giocheranno il prossimo saranno ancora in trasferta quindi terza giornata in trasferta per loro quindi le vedremo qui al palazzetto Tacca solo fa 15 giorni ho capito prima l'hanno perso prima abbiamo perso a Mestrino esatto sabato scorso all'esordio ecco lì vedo quelli del Cassano vedo un bel Ilic a centrocampo che assaggia il pallone andiamo a leggere velocemente la classifica che seppur ci sono solo due partite giocate hanno già segnato alla partita oggi 0-0 hanno segnato un pareggio un po' strano no ce n'è uno sì l'avevo visto quindi comunque Cassano e Bozzano 4 punti intanto è cominciato il match primo attacco per il Cingoli che attaccherà dalla vostra destra verso sinistra tenuta nera abbiamo detto Cassano e Bozzano 4 punti Pessano e Trieste 3 Sassari sempre 3 Brixen Conversano Siena Eppan Cingoli anche no Cingoli no quindi Eppan 2 punti Cingoli 1 punto Merano e Molteno 1 che hanno pareggiato e Falzano Fondi Albatros ancora 0 punti poi andiamo a recuperare i risultati a partire che sono svolte oggi e vi daremo gli match della terza giornata vai Luca vai intanto è partito Cassano abbiamo il mitico Shishi terzino sinistro adesso Fantinato il Cobra arriva centrale pivot abbiamo partiamo subito con un Dorio ecco che mi va scarica palla e tira subito e dice la sua Saita Saita prima retta del match apre subito è risalito e si alza il tiro e risponde alla pari con il numero 4 la Dachis è spostato effettivamente la Dachis in tiro è riuscito metto all'incrocio ecco Shisho Panion primo palo 2-1 Cassano inizio scoppiettante qual tacca tre azioni tre reti noto il cronometro che ferma sullo 0-0-9 c'è qualcosa che non va vediamo ecco 0-11 ma siamo assolutamente disallineati perché siamo 1-28 comunque 1-28 Cassano 2 Cingoli 1 Cassano in difesa 1-34 ci siamo allineati grazie tenuta nera abbiamo detto il Cingoli vedete Saita molto ah passa l'ala e viene deviata deviata c'è Dorio che dice che è stato un difensore un attaccante della Cingola deviarla e la palla comunque viene data al Cingoli nazionalità greca per numero 4 la Dachis e poi con numero 8 abbiamo anche Antic bel campo direzione molto bello questo gol cambio direzione sinistra proprio Antic e lui l'hai chiamato Luca due pari allora posso notarmi faccio i fatti miei esatto prossima volta dici l'allenatore del Cingoli è un nostro carissimo amico perché Sergio Palazzi molti lo conoscono come commentatore anche lui perché è stato per anni commentatore delle partite della nazionale o dei match di A1 trasmessi negli anni precedenti quest'anno lui è grande amante dei numeri grande amante delle statistiche degli score proprio era faceva il commento coadiuvando Matteo Damonte con tutte le statistiche quest'anno ha deciso di rimettersi in gioco e gli ha dato fiducia a Città dei Cingoli quindi panchina di A1 per Sergio Palazzi che salutiamo e quindi facciamo ovviamente i nostri in bocca al lupo non so dove andava Sissi pantinato terzo gol giusto? sì terzo gol primo palo doppio appoggio Sissi stava andando verso la panchina del Cingolo non ho capito cosa voleva fare poi dopo l'arbitro ha fatto riportare attenzione 3 a 2 3 a 13 Cassano che per ora gioca schiacciato in 6-0 non vediamo ancora difesa aggressiva vedete dove esce Saita quando la sua la va a doppio pivot praticamente ultimo prova ancora Antici questa volta viene murato c'è sfondamento anche farlo di sfondamento quindi riparte Cassano in seconda fase pantinato scaricone che arriva che arriva rimorchio ma viene smorzata la sua veemenza palla recuperata da Cingoli che vuole partire adesso in velocità bello primo palo doppio appoggio chi è che ha segnato? con il numero 15 15 Alessandro Rutaru grazie Davidone che ci viene che ce l'ha inquadrato segnato perché c'era stato un assemblamento titolo Piazzale Loreto di Milano ne avevamo capito chi aveva eseguito il tiro tre pari 4-0-6 segnato come cittadinato italiano ma dalle hobby origini rumene credo Alessandro Rutaru Rutaru va che viva Dorio che mi scarica e adesso arriva il Cobra Panion viene degliato Dorio poi la Dakis va a prendere la palla che era tornata in campo attenzione contro il piede delle Cingoli possibilità del vantaggio per la squadra Marchigliana guardate che ha già rubato la palla in super saita certo che Dorio con la palla segnaliamo anche la prima sanzione della partita come due sabati fa mi ricordo primo cartellino giallo a carico di Mattia Dorio hai notato che in attacco lui era lì alto due metri e mezzo la palla scendeva e si è un po' intercolato diciamo gli hanno preso la palla lui a quell'altezza lì alzava la mano era più in alto di tutti solo che purtroppo non aveva capito che la palla stava rientrando in campo non so se mi spiego esatto quindi tre pari possibilità del Cingoli di andare in vantaggio doppio pivot infatti Saith adesso marcherà stretto l'ultimo di sinistra del Cingoli lo vedete adesso l'ala ha ritornata al suo posto non c'è più eccolo lì benissimo Ilici prende che mi lancia chi? sì! Filippo Branca contropiede grandissimo sulla diagonale è riuscito benissimo a stare davanti all'ultimo difensore del Cingoli andare in diagonale aprirsi tutta la porta e tirare sul primo palo 4-3 molto bello questo gol e ovviamente Ivan Illich che ha visto grande lancio grande lancio che andava subito risponde Illich purtroppo non viene seguito dal difensore è riuscito a ribattere ma il difensore Cassano era troppo sulla sua ala quindi non ha ripreso il pallone 4-3 in questo momento ecco ancora Saita con quella manina di Santa rimane in attacco i Cingoli vedete che taglia fuori completamente la sua ala addirittura va a porre attenzione uno contro uno attenzione fallo 9 metri taglia la sua ala e va diciamo a anticipare cercare di anticipare ha chiamato time out ancora da asciugare il campo ha chiamato dicevo Saita cerca di anticipare il secondo da sinistra della della Cingoli determinando anche in questo caso un tentativo di intercetto molto bravo molto reattivo e molto ha un tempo perfetto perché se sbagli il tempo o ti liberano l'ala o viene superato dall'uomo ecco lì scarica crocio attenzione tiro da fuori si tiro da fuori un po' forzato mi va Lilich che non riesce a recuperare del tutto mi va Fanti ah scarica male su Ivan Scisci stava arrivando all'incrocio a Scisci si ha passato dove dovrebbe dovuto essere ma non dove dove era per cui un po' più di attenzione su questi questi scarichi 4-3 5-59 6 del primo tempo ecco Fanti che lo blocca in una presa chiamata chiave chiave d'acciaio ancora gli infortuni segnaliamo anche l'assenza del capitano per il calzano quindi Marco Lavendola non è della partita di su per Lavendola spero non per infortunio passato va Paratona paratona stiamo a segnare le crocette per Ivan paratona contropiede Fantinato possa mai proprio da fuori tiro deviato poi va a ripulire il tiro portiere quindi rimesso da fondo molto bravo buona la difesa del cingoli ha sporcato i tre o quattro bravo con numero 20 anche il portiere Mario Gentilozzi a recuperare una palla deviata dai compagni che poteva ingannarlo nella traiettoria ammunizione per il Cobra possa mai seconda munizione a carico del Cassano questa volta per Massimiliano possa mai ancora nulla invece quanto riguarda le sanzioni a carico del cingoli questo per insistito fallo taglia l'ala secondo pivot sappiamo che è una predisposizione di gioco poi l'ala andrà al suo posto guardate in questo momento va quindi è una scarica molto bene non può entrare come avete visto andare con l'ultima ala a anticipare il secondo si libera si rischia di liberare la propria ala a questo punto non è più possibile recuperare ma questo è chiaramente un schema di gioco quattro pari Filippo Mangoni dall'ala destra va a segnare la quarta rete per il Cassano ora gioco organizzato con Fantinato in posizione centrale in questo momento e possa mai adesso probabilmente alla prima occasione ovviamente ci sarà un'inversione di ruoli lo schema di partenza ecco lì che possa mi va al centro adesso Fanti doveva partire ma si è intercolato adesso mi parte Scisci uno contro uno e va a guadagnarsi un sette metri perché è stato spinto proprio un momento d'elevazione secondo gli arbitri è da sanzionare con un tiro dai sette metri ed entra Stefano Bassanese appositamente per cento per cento la volta scorsa se non mi sbaglio io non volevo dirlo proprio ah vabbè scusate scusate ah mi sa che abbiamo un colpevole dell'errore si avevamo dicevamo Stefano in casa con Siracusa 5 su 5 invece oggi primo errore dalle sette metri ecco scarico là l'avete visto è andata via la luce signore abbiamo tutto buio un attimo di si c'era stata la parata di Illich poi si è spento la parata di Illich la parata rientrata in campo non abbiamo più capito niente 8.54 interruzione momentanea sul punteggio di Cassano 4 5.4 non è andata via la corrente perché noi le attrezzature qui sono sempre quindi corrente c'è è proprio l'impianto luci che si è spento dobbiamo Davidino che si agita cosa c'è il Davidino dobbiamo va bene ok vediamo se riescono a risolvere la situazione in tempi vivi ovviamente il tempo è fermo quando siamo a 8.53 ah ecco bravo Davidino ci vorrebbe hai ragione 4 pari punteggio c'era stato un tiro dell'ala sinistra numero 6 Garroni ecco ritornata la luce siamo punti a riprendere il gioco cosa fa l'Arbic credo di Sisco delerà la palla perché non si sa penso che la palla non può meno quando la luce la palla era in volo quindi non era in possesso di nessuno la palla era rientrata in campo ma non sappiamo non so se qualcuno l'ha guardata e gli abiti hanno fatto il tempo a vedere un possesso possesso cingoli diciamo che viene assegnata la rimessa laterale perché effettivamente l'ultimo tocco è stato di Ivan quindi probabilmente si è dichiarato che la palla è riuscita dal campo e a quel punto rimessa laterale per i cingoli la palla è riuscita dall'area perché era sul centro l'arbitro ha detto possesso cingoli quattro pari ripreso il gioco possibilità di andare in vantaggio cingoli doppio pivot stabilita l'illuminazione del campo bravo bravo Antic viene fermato bene da Fantinato in maniera regolare super Fanti prima possibilità vantaggio del della cingoli va scarica viene fermato no non è Rotaru ok Antic uno contro uno sfondamento sotto passivo no ha dato fallo di Fantinato quindi siamo sotto passivo ma nove metri quindi non abbiamo avuto il conteggio dei passaggi rimanenti vediamo comunque doveva andare al tiro cingoli in maniera abbastanza veloce ancora parata di saitta che si lotta ma alla fine conquista palla il cingoli quindi nuova azione d'attacco ha zerato il passivo perché c'è stato un momentaneo possesso palla del Cassano e quindi azione piena per il cingoli che può nuovamente attaccare per cercare il primo vantaggio del match quattro pari punteggio quando siamo al decimo minuto vedete azione tipica del cingolo doppio pivot via l'ala ancora Antic ancora perde la palla la palla è stata attaccata al piede da Doreo fallo di piede quindi sul possesso palla del Pio Velesto era stato il pivot ma gli avessero fermato il gioco per fallo di piede ancora Antic ancora scarico al pivot questa volta rigore due minuti due minuti a a Cici ha trattenuto il pivot Cici perché era in anticipo con sulla palla Strapini e è stato strattonato quindi rigore per il cingoli possibilità vantaggio no si riprende non ho capito ancora allora il fallo è di Doreo non è di Scissi ovviamente Doreo è andato a discutere con gli abiti ma il fallo è due minuti è stato segnato infatti sembrava fosse Doreo però non è stato ritenuto un fallo da rigore quindi sono due minuti 9 metri sì sì fallo a Doreo due minuti Doreo però non è sette metri ma si è ripreso il gioco con nove metri semplici quindi ancora Cingoli in attacco questa volta potrà sfruttare l'uomo in più ancora un passaggio al pivot e questa volta segnaliamo il primo vantaggio Cingoli al decimo minuto e cinquantadue secondi 5 a 4 4 Cassano Cingoli 5 effettivamente avete visto che dolcezza quella palla lì servita morbida al pivot che di arrivata praticamente sul vassoio è riuscito ad essere a tirare in porta la palla è umida e quindi bisogna in qualche maniera intanto per superire l'infiltà numerica Collez rinuncia al portiere per mettere il settimo giocatore di momento e segnaliamo l'ingresso in campo di Iballi quindi esordio alla palazzetto tacca dopo i pochi istanti nel finale partita da Pessanone esordio e questa volta in settimana si è allenato al cento per cento è guarito dall'infortunio muscolare ovviamente non è al massimo della forma perché si è allenato a ranghi ridotti per un paio di settimana non è al top però è a disposizione del Milsa che ha deciso di mandarlo in campo al decimo del primo tempo Fantinato i balli cerca l'uno contro uno viene fermato nel frattempo è uscito Banca per permettere a Ilici di rientrare tra i pali quindi uomini meno in attacco passivo Fantinato cerca l'uno contro uno su Antic lo supera lo lascia sul posto fa schioccare un tiro del suo in doppio appoggio nulla può Antic nulla può Gentilozzi che non ha visto partire il pallone parità 5 pari con questo bel gol di Marco Fantinato gol in inferiorità numerica ragazzi molto importante molto pesante poi anche per recuperare il primo vantaggio del cingolo uomini meno è importante per rimolare suo e dei compagni bravo Marco sfondo sfondamento palla recuperata in passaggio non era pulito ha recuperato la palla ma non è riuscito a fermare il suo abbrillo quindi da sbattere contro lo possa mai palla recuperata ancora dal Cassano che non ha fatto nulla per togliersi ovviamente perché se ti arriva lì io qua ero e qua sto esatto se mi vieni contro io mi spoglio vado indietro segnalando all'arco ringrazio Giacomo Grasselli ha detto stampa del del cingolo che mi segnala Rotauro di origine Moldava bene bella Luca grazie Giacomo multifunction abbiamo Sissi che mi esce c'è ancora l'infiorità numerica parità numerica Panion ancora terzo gol sempre due piedi d'appoggio portiere e difensore non vedono niente ispirato Marco oggi terza rete per Marco 6 a 5 Cassano sempre cingoli con il duo Antic la Cadis chi è che va chi è che mi va c'è Branca è lui contropiede ancora per Filippo e ancora una volta funziona l'asse di sinistra Illic Branca seconda rete per Filippo Branca numero 21 del Cassano ho visto quando è partito Branca l'ho visto proprio ha guardato il portiere prima Panion non ci sta Lachis cerca di suonare la carica aveva trovato un bel barco è stato spintonato all'ultimo quindi palla che viene deviata oltre gli pali della porta e quindi rimesso dal gioco 9 metri per il pallo subito dalla Dachis sul tentativo di tiro doppio pivot ancora Lala si gioca uno spesso doppio si rinunciano all'olora alla sinistra ma un gioco di partenza perché quando il centrale Lala va via avete visto il doppio movimento ancora palla pivot stanno cominciando a giocare bene a trovare gli spazi col pivot è uno schema se tu hai notato quando taglia Lala si mettono in due arriva il centrale entrambi si allargano e il pivot va a scalare di una posizione a quel punto lì è stato servito il difensore Cassano era tagliato fuori è intervenuto lontano Fantinato che non era nella sua posizione molto bello lo schema del cingoli però è la quinta volta che lo ripeto esatto poi Cassano per ora ha giocato 6-0 in questa prima fase vediamo se ripetuti i palloni al pivot se dobbiamo mettere un'altra crocetta suggeriranno a Collez il cambio della difesa truciolo truciolo rotazione finta poi candelato e va a insaccare 7-6 seconda rete per Ivan Antic 14-23 e 7-6 cosa c'è? mi mancava un gol mi manca un marcatore del cingoli stavo cercando di fare in mente locale ci potesse essere dunque guardate guardate che bello che ha fatto tutto il cobre purtroppo l'ha lasciata come non l'ha servita bene e quindi ci si pensava di averne il controllo molto bello quando c'è quello spazio lì non teme il Cassano era in ritardo a scalare a sinistra e quindi lui ha colpito sul secondo palo a mezza altezza 7 pari molto bello 1-2 veloce da cingoli che raggiunge il pareggio sarà dura ragazzi l'ho detto in settimana Collez non sottovalutiamo i cingoli che non è promossa ha visto anche lui premettere due partite con Bolzano e Merano che ha reso conto che non c'è da scherzare i balli prima rete in maglia maranto per Ardiani Balli al minuto 15-35 segnaliamo la Dacchi si lamenta perché partono sempre le ali e lui passa il polone quando le ali sono quasi sui 6 metri del Cassano e ovviamente gli arbitri fanno ripartire 8-7 Cassano 16 minuti primo tempo sempre Antic e la Dacchi su quest'asse si gioca il gioco d'attacco dal De Cingoli mi riposo Antic in mezzo scarica per la Dacchi poi sulla destra nulla non c'è spazio cambia gioco fa girare la palla veloce i Cingoli la speranza di trovare un basket stavolta sorprende Illic che sembrava essere sulla tre del pallone ma non è riuscito a bloccarla addirittura con tutte e due le mani le mani la palla l'ha deviata sotto la traversa peccato 8 pari sarà dura l'abbiamo detto ovviamente il Cassano per adesso sta facendo solo gioco statico non si è visto seconda fase eccetera ha spinto due contropiedi secchi di Branca sulla sinistra ma per ora non stiamo spingendo anche in difesa siamo piatti quindi non stiamo forzando gioco avversario si devo dire che bravo Luca vediamo se poi Collez alzerà la difesa la difesa non è oh l'incrocio tanto un golasso di Massimiliano possa mai all'incrocio prima rete per lui magari questo la segnaliamo minuto 17 guarda va Branca va Branca bravo Branca avete notato che a questo punto d'orio era andato lui a difendere ultimo che è terzo in posizione terzo da sinistra e l'ultimo sinistra queste sono le rotazioni che si fanno ai giocatori quando un'ala anticipa ovviamente tutto questo autorizzato allenatore è provato in allenamento 9-8 Cassano ti l'hai ritrovato il gol del Cingoli? l'ho segnato l'ufficio ad Antic bravo mi sta facendo ha sbagliato poco è 50% di guarda buono bravo bravo la mano di Cisci la mano di Cisci ha disturbato senza commettere fallo andrà andrà possa mai ancora possa io l'ho visto che andava in quello spazio lì quello sciacallone ha detto finta di scaricare a destra si vedeva che il difensore non copriva davanti ha guardato Marco quasi a chiamargli l'incrocio ma Marco non si è presentato ha guardato il difensore pensasse che uscisse non è uscito ha detto quasi quasi tiro perché lui il difensore voleva coprire però non gli è stato davanti lui ovviamente aveva lo spazio di fianco ha detto io da Cobra qua vado a segnare 18 aveva creato una mini situazione di 2 contro 1 Marco è stato bravo a tra virgolette ingaggiare il difensore che non sa più a chi sceglie a quel punto è arrivato a 19 metri ecco persa palla poi palla persa dalla Dachis e quindi recuperiamo palla sta alzando un po' il ritmo il Cassano e sembra andare in difficoltà Cingoli mi sono andati fuori un po' di giocatori un paio di palloni persi intanto inizia invece il turnover per il Cassano perché cambio della guardia abbiamo visto in campo Davide Cattaglia per il Cingoli alla sinistra e anche per il Cassano invece doppia situazione Thomas Bortoli sull'ala destra e Stefano Bassanese sull'ala sinistra quindi cambio delle ali per il Cassano due giocatori sicuramente più veloci vediamo se uno dei due andrà a rigore tanto che scaricone che ha fatto il Cobra ancora un bel un bel bell'idea di Massimiliano che questa volta era stato stoppato ma il più lesto ad avventarsi sulla palla è stato Ivan Cisci fermato in maniera regolare dall'avversario si è guadagnato un tiro dai 7 metri vediamo vediamo penso sia Tommy Bortoli vediamo lui in posizione sì è lui che si incaricherà il tiro super rigorista pensavo che andasse lo sciacallo ma vediamo se Fattrucciolo anche lui vedete con il suo sinistro fa andare la tavola rotatoria un po' come Moretti vedete Ivan Bortoli contro Mario Gentilozzi una finta e se realizza 11-8 Cassano comincia a mettere un po' la freccia adesso più tre massimo vantaggio Cassano quando siamo al ventesimo del primo tempo quasi 19-30 un terzo di gara è andato Cassano sta cercando di aumentare i ritmi di gioco ha aumentato anche il punteggio diciamo massimo vantaggio vediamo se la crisi del cingoli è solo momentanea o se invece è un primo segnale sembrerebbe di no la Dacis dice no guarda noi veramente siamo belli e freschi e combattivi non abbiamo nessun segno di cedimento sembra quasi un messaggio diretto a me per lo speaker la Dacis quarta rete per lui per lo speaker si di fatto Luca guarda Panion e ha segnato 9-11 Cassano 9-20 del primo tempo o il Cassano se la prende comunque comoda non è che vuole sudare tanto Doryo questa volta pivot attenzione l'ho visto palla persa vai incontro in qualche modo riesce a recuperare la palla con il numero con il numero 2 abbiamo Giacomo Bincoletto va a realizzare l'ho visto molto bene uscire in anticipo è riuscito a sporcare la palla e poi eh sì chi ha passato doveva capire che c'era un anticipo in corso caro Davidino un Giti Cassano 10 cingoli ecco che mi va il Dorio ecco ah ma riesce a pescare lo pesca no è gol è gol sì che è gol è gol è gol è gol di Dorio è gol di Dorio che ha preso dalla spazzatura ancora gol della della cingoli Rotaru Rotaru che adesso a sinistra due minuti Fantinato fase un po' con busse azioni strane da un lato dall'altra alla fine ne approfitta cingoli perché riesce a ridurre il quel gap che si era creato prima di tre quindi si è riportata una sola rete di svantaggio e potrà approfittare dei prossimi minuti di superiorità numerica per l'espulsione di Marco Fantinato il secondo giocatore del Cassano ad andare in panchina puniti e ovviamente Colez opta per l'extra player dentro vediamo che è entrato a sostituire quindi Saitte tornato alla destra e Bortoli Terzino per recuperare l'uomo di movimento e Pali in questo momento sguarniti quindi a un certo punto sarà penso Bassanese a dare il cambio a Ivan Ilic ecco che va Bassanese ha cercato il tiro non c'è fallo quindi può ripartire 5 nel frattempo Ivan poi ancora palla persa attenzione perché è il terzo pallone sprecato in maniera assurda diciamo perché c'era anche un'altra numerica poteva portare giù la seconda fase con molto tranquillità si trattava solo di gestire il possesso palla anche perché erroraccio era in doppia superiorità perché c'erano due giocatori del Cassano che stavano recuperando dietro il difensore lì proprio ha gestito male la palla e grazie Cassano ha detto non approfitta della superità numerica i balli ancora possa mai finta scarica per Saitte non c'è spazio deve risalire prova a incrociare viene spinto attenzione perché è caduto sulla schiena pesantemente però nulla di fatto perché bisognerà pulire per terra chiama asciugare però time out l'arbitro nulla di grave dal punto di vista sanitario per Saitte ma che qua possa mai è lì il spazzettone ancora ben 28 secondi di infiantare numerica poi potrà rientrare il Cassano gioca sempre in extra player cioè senza portiere 37 giocatore di movimento arrivano le indicazioni dell'allenatore del Cingoli approfitta di questo che non è un tema nato ufficiale ma gioco fermo e dalla panchina grida indicazioni ai suoi giocatori riparte rettifico sono 6 giocatori di movimento perché il Cassano ha un'inferiorità numerica quindi portiere fuori attenzione possa adesso mi passa possa mai va secondo pivot va largo ah bello schema bello schema è pallonetto di Saitte l'avete visto che schema non sapevano più chi prende i difensori del Cingoli è tagliato dietro praticamente all'attaccante del Cassano attenzione alla risposta del Cingoli fondamento direi che su quella parte di Gabriele seconda rete per lui però ha visto che azione con la portata dietro la palla ha fatto un dai e vai i difensori non sapevano più chi aveva la palla 23 13 e 11 possibilità il più 3 del Cassano c'è il Davidino che si sta sbracciando attenzione siamo parità numerica è mia quella lì eccola mollami e va ancora ancora possa ancora lui ci siamo passati le penne non si è capito no dovrebbe essere 14 14 14 sì 14 11 terza rete per Massimiliano il Cobra 14 11 Cassano che torna più 3 quindi è riuscito a mettere un po' d'ordine dopo un paio di minuti confusionari ristabilita parità numerica si è riportata sul massimo vantaggio quando siamo ormai entrati 5-1 Luca si immaginava con l'ingresso di Stefano e Thomas ci potesse essere uno dei due che diventasse la punta avanzata della 5-1 e così è stato 5 giocatori sui 6 metri e un giocatore che va sulle diagonali traversa ma la pesca recuperata da Cassano vediamo se spinge la seconda i balli non c'è spazio possa mai far tirato in crocia i balli a pivot ma ha capito tutto va che va a difendere va che ci va fa finta possa ha capito tutto con il numero 33 Davide Ciriglia dopo un dai e vai con il compagno è proprio lui che va a realizzare in contropiede complimenti a Davide perché ha intuito lo scarico al pivot e poi bravo a consegnare la palla a un compagno e riproporsi in velocità e realizzare in contropiede 2 contro 1 è tutto semplice basta che si guarda e via 14 Cassano 12 Cingoli al 25esimo in primo tempo 5 al termine della prima fazione di gioco Fantinato Iballi possa mai viene fermato ancora i balli Fantinato uno contro uno scarico per Bassanese e bella parata di gamba sinistra bellissima bravo bravo bella azione di Cassano ma bella risposta di Mario è rigore questo e poi esatto 2 minuti su Fanti ancora 2 minuti Fanti cambio direzione sinistra e si infila tra Fantinato e l'ultimo difensore del Cassano prendersi rigore 2 minuti no i balli i balli due minuti sì perché per Fantinato sarebbe stato il secondo bella reazione di Rotaru che ha superato il suo uomo 1-1 secco direi che ha fatto un cambio di direzione alla Cobra direi un po' Samae si guadagna il tiro del 7 metri soprattutto i 120 secondi di superità prova a cambiare le carte in tavola mister Collet quindi dentro per tentativo di opporsi al tiro del 7 metri Luca Monciardini opposto a Ivan Antic detto cambio nazionalità vediamo disco dell'abito finta e supera Luca quindi nulla da fare quarta rete per Antic e Cingoli che si riporta meno uno parziale 2-0 Cassano che può allungare ma Cingoli che rimane aggrappato al match Cassano fa il ganassa fa tre gol poi superiorità numerica inferiorità li fa rientrare dopo non vorrei trovarmi a tre minuti alla fine così però attenzione ho detto io alzerei il ritmo già dalla difesa dall'attacco per vedere di ovviamente avendo meno campi anche di affaticare il giocatore del Cingoli vediamo se il Cassano infatti trascorre ovviamente il periodo di inferiorità numerica riesce ad alzare il ritmo per il finale in primo match però è passivo ecco l'Alan grandissimo per Saita cerca palonetto sulla copertura del primo palo ancora di Gentilozzi ma traiettoria calcolata male la palla si perde oltre la traversa Cingoli che attacca per il pareggio eravamo più tre solo due minuti fa eh sì ha avuto una bella palla sui sei metri in inferiorità numerica sarebbe valso doppio questo gol qua ma non è stato così c'è Carlo Di Nosaita 14 Cassano 13 il Cingoli attenzione vediamo da qualche minuto in panchina la Dacchis ecco lì e si è perso da qua si perde tutti i vantaggi carico per l'Ala infatti si è visto e ci vuole potere paratone di Ilic ci vuole portiere nel momento clou grande parata questa importantissima ci vuole la manona di Ivan Ilic la difesa era ballata era grande ma eravamo completamente scoperti scoperti bravo Antic a vedere la sua alla destra completamente libera 4 km di campo Ilic fa un autentico miracolo anche perché con la difesa sballata così che continuava andare con un ritardo di pie greca mezzi si è fatto male a un giocatore del ciclo si era proprio lo stesso Antic vediamo Dolorante ha una spalla spalla sinistra si come se nell'ultimo nella rotazione nell'Eret forse non so perché adesso comunque ha passato ha semplicemente fatto un passaggio non ha fatto un tiro poi non è neanche braccio in tiro quindi probabilmente c'è stato un contrasto quando ha scaricato palla ha subito un contrasto dall'avversario magari lui forzando per liberarsi a 14-13 Cassano possesso palla comunque fuori Antic è rientrato la Dakis che era in panchina da qualche minuto quindi è costretto a tenere a riposo i suoi due giocatori migliori quindi potrebbe essere questa un'arma da sfruttare per Coles invece sapere che i due giocatori più rappresentativi della squadra avversaria non hanno i 60 minuti nelle gambe quindi cercare di approfittarne in qualche modo magari mandiamo un suggerimento a Coles vediamo Tommy Scarica arriva a Superfanti si allarga Dorio che arriva il Cobra questa volta Gentilozzi sulla traiettoria e si lotta sull'area spinta due minuti al difensore del due minuti per Filippo Mangoli quindi probabilmente ha spinto via Dorio che era ha voltato là come una pelle di stracchino non abbiamo visto bene i dettagli ma probabilmente Dorio era in anticipo sulle spinte del portiere e Mangoni ha spinto via l'avversario quindi causando il due minuti e il possesso palla per il Cassano non è male visto che se diventavo possesso palla del Cingoli ha due minuti qualcosa dalla fine mentre così ha vantaggio numerico nel frattempo è rientrato non i balli che era l'uomo due minuti però insomma ha recuperato il suo settimo uomo il Cassano quindi superiorità numerica per due minuti pieni Fantinato ancora per Saitta che deve rifarsi e si rifà dopo l'errore di prima sulla sbagliata parabola del palonetto questa volta va sul sicuro Sabongina sul secondo palo sul palo lungo e realizza terza rete per Gabriele intanto segnaliamo 15 a 13 un minuto e mezzo alla fine il Cassano vorrebbe andare a riposo o con due o con tre gol comunque segnaliamo ci fa piacere Antic ha superato quel piccolo infortunio e di nuovo regolarmente in campo e c'è time out per Sergio Parazzi e noi andiamo con due brevi spot pubblicitari grande aveva chiamato il Davidino quindi siamo sul 15 a 13 al momento un minuto qualcosa alla fine quindi ovviamente lo scopo del cingoli è quello di tenere palla fino a pochi secondi alla fine e segnare quindi andare a riposo sotto di uno lo scopo del Cassano non farlo segnare e andare in attacco e dare riposo sopra di tre sembra facile ma non è proprio così c'è il Davidino che fa i conti noi siamo sempre qua seduti noi facciamo tutti i belli tutti gli schemi qua funzionano tutti qua funzionano tutti non si suda niente e non si prende nessuna tramvata è notato che qua seduti è molto più semplice fare gli schemi assolutamente si perché dici potrebbe essere così fai l'ipotesi a b o c ma perché non fa così quello lì ma non ha capito ma perché non ha recuperato perché la difesa balla quando sono mezz'ora lì ovviamente c'hanno la lingua per terra e qualcuno dice vengioti vieni qua a te il corretto preciso siamo appoggiamo i giocatori in campo bene vediamo che indicazioni avrà dato Sergio Palazzo perché c'è da portare a termine questo primo tempo due le reti da recuperare un minuto e mezzo al termine ma di questi un minuto e mezzo un minuto e quindi ci saranno in più in più in più in più in più però adesso senza portiere giusto? no immagino di sì no no Gentilozzi rientra il momento poi quindi il cingoli deciderà di giocare con un uomo in meno di movimento senza extra player non è ancora ripartito il gioco rimesso in gioco di Ladakis cosa c'è? oh 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 cosa c'è? attenzione perché stavano per commettono un'ingenuità perché i giocatori in campo erano otto per fortuna che non era ripreso il gioco buon per loro che se ne sono accorti prima del fisco arbitrale altrimenti ci ricordiamo che questo termine l'espulsione è due minuti esatto sì sì salvati in estremis sì perché era gioco fermo quindi che fosse stato già il fisco dell'abito era una seconda sanzione due minuti certo e sarebbe stato un bello il pivot verso palla gli è andata bene il Bassanese perché ha fatto una trettenuta da Tergo che insomma rimane in attacco cingoli cingoli prova l'uno contro uno Bincoletto palla persa poi riesce a per fortuna vai 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 Fanti va che va va che va va che c'è uno schericone sul basso e va in qualche modo riusciamo a portare a casa questo contropiede è tutto nato da una palla recuperata da Cici equilibrio precario ha tentato di lanciare ha buttato un po' nel mezzo batti e ribatti l'ha preso a Fantinato riuscito a scaricare l'attaccante del cingoli l'ha persa l'ha data a Fantinato cambio direzione e palla Bassanese che è andata a metterla su 16 e 13 intanto prima rete anche per Stefano Bassanese 30 secondi anzi 22-23 infatti ovviamente il cingoli deve andare fino a un secondo alla fine per Panion non lo vede non trova la porta non c'è fallo ancora un possesso palla per il cazzare questa volta time out chiamato da Coles 13 secondi dalla fine 13 secondi di possesso palla quindi fa due secondi rientrerà il settimo uomo per i cingoli quindi dovrà non decidere semplicemente che schema attuare con questo ultimo pallone del primo tempo io suggerisco uno schema 12 che ciappa la baletiera diciamo Cassano è riuscito in qualche modo a riportarsi anche sul più 3 quindi 16-13 il punteggio e riuscire a realizzare in quest'ultimo scampo di partita andare in intervallo più 4 potrebbe dare un po' più di tranquillità anche se proprio l'esperienza di sabato scorso a Brix andavamo più 4 più 10 della fine comunque nella palamano 4 redetti di scarto non sono assolutamente un distacco di sicurezza però intanto tu porta qua che io porto a casa dammene 4 soprattutto 3 minuti alla fine meglio averne 4 da gestire che 4 da recuperare questo è sempre in dubbio però tu dammi 4 che io porto a casa diciamo che i cingoli in questi primi 30 minuti ha dimostrato ampiamente di non arrendersi molto bene molto bene non saranno né 3 né 4 le reti che daranno tranquillità e sicurezza per affrontare il secondo tempo quindi non cambierà nulla nel secondo tempo a seconda di come vada questa ultima azione del Cassano adesso mi è entrato un i balli devono fare subito lo schermo guardate i balli 5 bisogna tirare povera Fantinato marchio di fabbrica Fantinato quarta rete per lui da ora in poi lo chiameremo Marco doppio appoggio Fantinato sta diventando 90% nonostante lo faccia ormai da un paio di stagioni gli avversari ancora non riescono a prendere tempo proprio proprio nella scelta di timing e poi la frustata molto decisa anche perché lui fa il doppio appoggio e lascia la palla nello stesso istante per cui a un certo punto dice il difensore ora mi piace il portiere vado su secondo pallo è troppo tardi bene sul punteggio di 17 a 13 per il Cassano noi ci prendiamo qualche minuto di pausa e ci risentiamo ma certo fa poco ciao 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 ben tornati al palazzetto tacca pronti a secondo tempo Bocchieri Bocchieri e scavone inizio dal secondo tempo Cassano che attacca alla vostra destra dicevamo Cingoli è riuscito ogni volta a rintuzzare gli attacchi solo nel finale del primo tempo Cassano è riuscito a raggiungere il massimo vantaggio più 4 17-13 con un bel gol di Fantinato in doppio appoggio sì che era il quarto in fotocopia 4 gol di Marco Fantinato tutti e 4 ecco i balli ci provano i balli anche dalla parte opposta gola sembrava aver intercettato Giovinazzi ma secondo l'arbitro la palla aveva già marcato e li riporta quindi seconda rete per Ardi Aliballi e Cassano che va su più 5 è andato via lascialo lì a momenti gliela prende va a realizzare dalla parte opposta con numero 10 Filippo Mangoni tanto abbiamo grazie al cronometriso ufficiale recuperato il marcatore del gol che ci mancava che avevo dato impropriamente ad Agis invece restituiamo a Cesare qualche di Cesare un gol aveva messo a segno il pivot con numero 19 Diego Strapini mi raccomando il pivot Luca infatti quando mi ha detto ha segnato il pivot ho detto adesso Cassio mi sgriderà per aver tolto ancora il pivot e poi c'è anche Davide Bianchi Davide Censi quindi sono in netta inferiore 3 pivot onore al pivot sempre Riballi bravo bravo abbiamo Fanti Centrale il Gobra prova a cercare per via Centrale ma viene fermato dalla Dakis 9 metri attenzione però perché siamo sotto passivo Cici Pivot non andrà a tiro tre passaggi sono andati prove e balli uno contro uno si incunea ma commette inflazione di passi si era liberato bene ma un passo di troppo bravo bravo Fanti bravo Marco a scegliere bravissimo con il timer perché sia in attacco ma anche nelle uscite difensive sta diventando veramente ottimo con il ginocchietto il grande Ilic ma la palla è uscita sulla linea di laterale quindi rimessa in gioco per i cingoli che rimane in fase di attacco grande ginocchietto destro di Ilic che l'ha visto e ha fatto la palla alta purtroppo là la nostra era andata in pressing attenzione alla prima fase intanto il commissario Fabio Andario che richiama l'attenzione degli arbitri va a far ammonire la panchina del Cassano quindi allenatore Davide Coles del Cassano però normalmente la munizione è riservata alla panchina è certo che Davide c'è sulla canottiera al contrario non lo stregano mica così non gli fanno il malocchio ancora Davide si perde in discussione con il commissario per concentrarci sulla partita ormai la munizione è tradata non te la togli sicuro sicuro pivot ma c'è tanta gente lì bravo Fantinato c'erano quattro giocatori del Cassano tutti lì perché Sait sappiamo che va a fare densità attenzione parte il gioco bravo bello gol rigore due minuti d'orio rigore due minuti d'orio attenzione perché per Mattia e se non ricordo male infatti così è la seconda esclusione temporanea grandissimo gioco del cingolo che ha aumentato la velocità passaggi veloci il Cassano arrivava sempre più in ritardo alla fine è liberato il pivot con Dario addosso ma ovviamente il pivot guardava già il portiere e Dario ha tentato di mitigare il fallo ma sarà Ivan Antic a tentare tiro da sette metri d'opposto questa volta sarà Ivan Illich ma per la legge dei grandi numeri guardiamo Ivan contro Ivan vediamo Sisi e c'è un altro Ivan Sisi lì punto a recuperare un'eventuale respinta del portiere molto bravo sciacallone si dimostra freddo e concentrato Ivan Antic quarta rete per lui ha segnato Ivan Illich e c'era lì Ivan Sisi 18-15 punteggio intanto andiamo velocemente a ricordare i risultati dei partiti svolti oggi Sasseri Fondi 26-16 Bozenepan derby al Totesino 34-32 pareggio tra Trieste e Siena 24 pari vittoria del Fasano sull'Arbatro 30-28 vittoria del Merano sul Molteno 32-28 si sta disputando Pressano Brixen andiamo a darvi il parziale in questo momento siamo al 23-2 minuto il Pressano wow rigore 2 minute rigore sui balli e 2 minuti per Antic molto bravo qui i balli su cambio di direzione e dicevamo esplosivo 27-2 minuto Brixen conduce 23-24 a Lavis contro il Pressano poi qualche minuto vi daremo il risultato finale anche di quest'ultima partita poi attenderemo il nostro per concludere la terza giornata della serie attenzione c'è qualcosa da dire la cosa all'arbitro quindi comunque tiro da 7 metri che si incaricherà Thomas Bortoli di super Bortoli di battere e ad opporsi sarà sempre con numero 20 Mario Gentilozzi tutto è pronto vediamo se fa trucioli prima rotazione e poi va 19 15 3 20 del secondo tempo quindi seconda rete per Thomas Bortoli due inferiorità numeriche vedo Luca si si esatto c'è ancora D'Orio con un minuto e poi dicevamo la Dachis che è appena uscito fallo sui balli 19 15 sempre 4 rete di vantaggio quindi parità numerica a meno che abbia rinunciato a portiere quindi superiorità della si libera bene questo è un altro miracolo di Ivan Illich poi a porta vuota va a realizzare lo stesso Ivan Illich sciacallone vale doppio questo lo segnaliamo magari parata di Illich metto una croce sopra l'altra questo qua col gol si era liberato bene Rotaru completamente solo in elevazione nonostante la società numerica seppur annullata da Alex Rapeglier e poi parata di Illich a realizzare il gol porta a porta e poi adesso invece va ad accorciare a distanza Filippo Mangoni terza rete anche per lui 20 a 16 ho visto intanto il cobre che è voltato là come una palla di stracchino non so su cosa ha urtato 20 a 16 4 e 27 sempre 4 le reti di vantaggio ormai in questo inizio del secondo ripreso sembra essersi stabilizzato il vantaggio ricordiamo ho detto anche prima non è sicuramente un margine di sicurezza bisognerà giocare giocare fino al 61esimo minuto e oltre per garantirsi questi due punti che ci permetterebbero di rimanere intenso insieme al Bolzano vittorioso oggi contro Lepan e questa volta gli hanno preso le misure perché ancora è al coso ancora lui con quelle mani lì è bestiale pantinato questa volta viene intercettato il suo tiro in doppio appoggio hanno letto le intenzioni e hanno murato il suo tiro ancora pochi secondi poi restabilita eccoci qua rientra Gentilozzi e quindi nuovamente parità numerica in campo sta giocando con l'extra player si giocava senza porta senza portiere ma ora è rientrato tra i pali quindi tutto regolare tanto ecco che rientra la Dachis che era invece il giocatore che aveva formalmente preso la sanzione da due minuti quindi non poteva sicuramente essere lui a dare il cambio al proprio portiere scarica sul pivot ma lo ruzza un attimino fallo lo viene fermato in maniera fallosa rimane in attacco Cingoli ancora Antic e la Dachis e sempre loro a giostrare palla con Rotaro il Folletto a dare velocità è molto bravo la palla in qualche modo arriva ancora Mangoni che va a realizzare il pallonetto 20 e 17 Cassano adesso riprende il gioco a 6 e 14 con i balli centrale Fantinato terzino destro vedo Saeed mi sembra la destra sì con il 19 Saeed di qua doveva essere Bassanese sono visto male mi sembrava visto Branca però potrei sbagliarmi super Branca scarica gli alterna gli fa fare la classica staffetta Fantinato è ancora questa volta non era sul doppio appoggio ma il cambio di direzione sinistra ma non ci ha visto non ci ha capito niente questo è stato un effetto sorpreso perché il giocatore che gioca il secondo adesso non è abituato a trovare davanti a un mancino non gli ha preso le misure o per quanto meno quando si è reso conto che aveva un mancino di fronte ormai la palla era in fondo alla rete bravo Marco stavolta non ha fatto il doppio appoggio ma ha fatto cambio corto cambio direzione sinistra non è evidentissimo ma quel tanto che basta guadagnare quei 20 cm di vantaggio sulla mano della borsa ma non ha stoppone di Cisci stoppone di Iman Cisci vale quanto un gol questo stoppone sì questa c'era una selva di braccia però lì effettivamente 21 Cassano 17 5 le possibilità più 5 Cassano più 4 sarebbe la prima volta che ha stabilizzato il gap che vuol dire che dall'inizio del secondo tempo sono andati fatti un gol a testa infatti 21 pensano che non sembra avere 4 pari poi chiamata in provvisa di Massimiliano passa mai passa mai ha ragione il super cobra riparte siamo il primo più 5 per il Cassano quindi possesso palla in questo momento del cingolo il punteggio 17 Cassano 22 difesa c'è parità numerica è brutto brutto scarico brutto scarico con i difensori del Cassano che stavano si erano portati fuori dai 6 metri erano andati all'intercetto ovviamente l'attaccante del cingolo si è trovato un po' spiaesato con tutte quelle maglie amaranto scaricato nel nulla va a lavorare su queste palle perse Sergio Palazzi perché alla fine 4 e 5 gol di scatto sono anche non dico rapporto 1 a 1 però insomma 4 e 5 sono anche le palle perse in attacco da cingoli senza nessun disturbo da pensare in alcuni casi non forzati gratuito completamente quindi c'è da lavorare su questo mentre ne ha recuperato 1 o 2 la prende Saitta Fanti guardate i balli finta del Cobra mi scarica c'era un chilometro quadro bravo ancora Gentilozzi bravo Gentilozzi c'era un chilometro quadrato per Lara grandissimo possa mai scaricare bella l'azione del Cassano bravo bravo Dorio bravo Dorio perché Sici se n'era andato sul primo campo in direzione dell'attaccante del cingoli ma c'era dietro Dorio sulle braccia eh sì gran gol di Ladakhis eh sì gran gol di Ladakhis quando fa la transazione a destra i difensori sono piedi a terra senza sulle braccia lui vede tutta la porta tipicamente metà altezza secondo palo e soprattutto anticipa il portiere non ha neanche possibilità di accennare la parata questo tutto merito su perché non c'è stato azione non c'è stato circolazione di palla è lui che si è reso conto di un non perfetto piazzamento di ritardo di posizione ha scelto il tempo si è alzato ormai era troppo tardi sia per il difensore che per il portiere gran gol di Ladakhis al nonno minuto del secondo tempo scusate pivot era buona l'ha presa ancora eh cercati l'ha quasi recuperata ma il portiere gliela ha sporcata se no aveva girato il difensore ecco lì c'è la spazio sta salendo in cattedrale Ladakhis attenzione questo è un giocatore forte non bisogna lasciarlo fare perché se prende il coraggio la classe ce l'ha se anche va su di di convinzione di testa può diventare pericoloso anzi è sicuramente è stato pericoloso l'ha dimostrato in questa ultima 6-6 gol per Ladakhis è attualmente il miglior marcatore dell'incontro seguito da Fantinato con 5 la partita ancora lunga non è affatto finita cingolo che si riporta a meno 3 però a Cassano c'è un attacco che è molto molaccione i balli uno contro uno deve ritornare sui suoi passi possa mai finta incrocia con Fantinato non c'è spazio molto bravo la difesa a ciclo e costringe la probabilmente frazione di passi perché è sceso con la palla in mano oh attenzione quasi attenzione a cingoli sta attraversando molto bravo portiere bravo il difensore Fantinato addirittura che è andato a prendersi il terzo ma molto buona difesa del cingoli abbiamo visto una bellissima difesa del cingoli prima sta salendo la difesa del cingoli anche in attacco magari ancora qualche azione estemporanea personale però non ci sta il cingoli a lasciare scappare via Cassano e lì ha grappato al match tre le reti recuperare con possesso palla quindi possibilità del meno due per i marchigiani va a Rotaro uno contro uno c'è si se no ragazzi con quel movimento di braccio se lo lasciate fare ad avvicinarsi a tre passi dai sei metri fa quello che vuole ma vi consiglio di andare a rivedere perché troppo bello questo bello il tiro bello il gesto di Rotaro ma anche il movimento di strappini il pivot che ha praticamente aperto un varco di quattro metri sì però il difensore del Cassano e il pivot se l'ha già andato e ha lasciato avanzare l'attaccante lì devi togliere lo spazio se lui deve tirare devi tirare due metri più in là perché altrimenti è letale bello il cambio di direzione peccato ma che la prende la presa Saita che gran recupero infatti l'ala del cingolo se ne dispiace pensava di essere già in possesso e gliel'ha spazzolata via il mitico Saita che su queste cose ha un tempismo per fare a collo 9 metri ha rischiato Antic qua sì e devo dire che Cassano fa più fatica adesso 22 a 20 sì era in ritardo e l'aveva già superato e aveva le braccia sul collo sì si è visto graziato dagli altri che promettono non l'hanno visto al pieno anche perché ha scaricato la palla ha fantinato quindi vabbè però ha difficoltà il Cassano segnare Cassano sta attraversando un momento più difficile del match ancora due reti di vantaggio ma non bastano non bastano anche con la salita del cingolo in difesa e i balli e ah peccato e poi perde palla possa mai può partire il contropiede il cingoli bravo bravo Fanti bravo Marco scelta di tempo ancora una volta sulla Dachis avete notato come quando stava traslando per difendere ha ridotto al minimo la distanza al giocatore in modo tale che come fosse in possesso palla lui gli era addosso senza fare un fallo plateale esatto molto bravo molto bravo questo è tecnica intelligenza difensiva e capire qual è il pericolo maggiore Cici esce vediamo chi entra vediamo i balli e poi abbiamo visto anche Thomas Bortoli a posto di adesso abbiamo uno strappo forse quasi un 4-2 certamente un 5-1 mobile è stato la difesa Collez vediamo anche con cartellino si è andato via i balli e ci aveva toccato la palla Illich ma l'ha riuscito a fermarla il gol di Niccolò Garroni il Cassano fa vedere proprio di essere fatti i cambi anche il portiere l'allenatore Cassano 5 di che torna meno uno assolutamente ma soprattutto grossi difficoltà il Cassano infatti vedevamo Davide Collez con il cartellino del temato in mano e ha deciso che era giunta l'ora di fermare il pallino e ridiscutere tutte le strategie perché in questi 13 minuti controllo il cingolo è stato sicuramente più in palla dei ragazzi in casa a Camaranto tanto andiamo a vedere se arriva il finale da Pressano no il punteggio ancora fermo sul 27esimo minuto non ci sono aggiornamenti bisogna pazientare ma ho visto Pressano in vantaggio quasi tutto il match poi in questo aggiornamento il 27esimo minuto il Briggs ne è passato avanti il 234 e però non c'è ancora aggiunto il risultato finale o anche un avanzamento di minuto quindi siamo fermi a tre minuti dal match dalla fine con il Briggs in avanti di uno torniamo però qua alla pallatacca dove momento difficile negativo per il Cassano prova a rimescolare un po' di carte mister Collez ha chiamato time out dentro Monciardini per Ivan Ilic che sicuramente ha fatto un'ottima anzi una stupenda partita terza parata con gol quindi in queste ultime due azioni ha sporcato due palloni senza riuscire a fermare quindi prova Ilic a dare una sferzata anche a quel reparto dando fiducia a Luca Monciardini e mentre in attacco si riprende il gioco con Bortoli in cabina di regia possa mai fare un altro i due terzini poi abbiamo i balli no Saitta l'ardesco quindi probabilmente fa un cambio attacco e difesa con i balli vediamo e adesso la palla scotta qua attenzione si vedete che Cassano aumenta i movimenti ah vediamo ma la prende Fantinato due minuti a un giocatore della Cingoli Fantinato è andato a tra virgolette a sbattere contro la Daki quindi il giocatore Cingoli chiamavano qua il giro sfondamento però secondo gli arbitri Fantinato è stato spinto da Anti probabilmente alle spalle quindi hanno ravvisato una gravità di quella spinta che poi ha portato Fantinato a giocare contro l'altro giocatore certo questa ci sembra l'interpretazione che è stata da tagliare però l'arbitro di campo era molto deciso quindi ha visto certamente la sequenza dell'attività per cui ha determinato due minuti per il Cingoli questo è oro per il Cassano perché era un momento diciamo di appannamento Fanti va che si tiene l'uomo scarica viene deviata però fermato l'abbrigo deve partire da capo il Cassano e costruire tutta l'azione cambio direzione Bortoli che mi scarica su Fanti cos'è? sfondo sfondo di Dorio non abbiamo capito di chi sfondo di Dorio perché era l'uomo più vicino quindi spinta del pivot e azione vanificata quindi nulla di fatto in questa azione offensiva per il Cassano ed ora dovrà stringere i denti in difesa e non permettere il nuovo aggancio dalla sì però è in superiorità numerica quindi ha fatto un attacco senza girare in una maniera giusta creare la superiorità numerica è addirittura buttata via la palla l'ultimo risultato di pareggio assoluto lo ricordiamo a metà del primo tempo con 5 pari poi il Cassano poi il Cassano è sempre stato avanti magari anche di una sola rete ma il cingolo è dovuto inseguire fino adesso ed ora possibilità di completare la rimota ovviamente rinuncia al portiere per recuperare il sesto giocatore di movimento lasciando però ancora una volta la porta sguarnita quindi possibilità di rubare palla e fare gol come ha fatto precedentemente Ivan uno contro uno viene fermato nove metri ovviamente adesso giocano corto per far scorrere l'inferiorità numerica passivo e però gli arbitri non ci stanno quindi chiamati di passivo attenzione va a caricare buono il timing ancora di Fantinato sta diventando molto bravo a scendere il tempo in meno adesso tirerà ovviamente numero 4 fuori tutti si allarga fondamento fischiato a Vincoletto palla bravo il cobra attenzione ancora 20 secondi di sfruttare numerica bisognerebbe cercare di spingere e sfruttare anche perché Cassano bisogna di questo gol perché comunque nell'ultima azione ha dimostrato di non avere tutta questa fluidità quindi sfruttare un uomo in più sarebbe importante eccolo lì palla per Saita e ma ancora Gentilozzi perché ci sta mettendo il suo portiere del Cingoli ancora una bella parata di Mario numero 20 del Cingoli estremo difensore ha fatto anche lui 3-4 belle parate tiene Galli suoi ancora 22-21 punteggio fermo siamo superato la metà del secondo tempo anzi ormai ormai parata di 46 minuti e rientra Antic è partita che si sta complicando naturalmente il Cassano l'avevamo detto che si arriva con questa filosofia qua alla fine parata di Moncia ma il più lesto è stato ancora una volta Diego Strapini pivot dal Cingoli che va a realizzare quindi rimonta a completarla grande parata di Moncia 22 pari tutto da rifare per il Cassano ora un tiro stoppato a possamai ma per fortuna la palla torna tra le manone di Thomas Bortoli tutto io avrei bisogno di balli in questo momento hanno perso fiducia hanno perso coraggio appena ha giocato il time out Coles quindi non si può giocare subito quello che sarebbe il terzo e ultimo quindi vuole conservarselo però vediamo in grossa difficoltà i ragazzi cambio di direzione ma che va a posta oh che bello bravo a posta difesa in area si ha ragione un fallo però insomma ormai era si era superato si è liberato al tiro è bravo e Cingoli passa addirittura in vantaggio molto bravo con Antic molto bravo cambio di direzione si è infilato Cassano io dicevo che il Cassano doveva andare di velocità prima per stancare i giocatori ecco che mi è rientrato Liballi Liballi è al centro vediamo se sarà lui la svolta lui ha dato dei bei cambi di direzione delle belle idee dei bei scarichi però vediamo uomo di esperienza uomo di capacità di conoscenza di pallamano ovviamente si sta calando nei movimenti nei schemi del Cassano questo infortunio muscolare neanche rallentato questa integrazione del gioco però c'è bisogno di lui che bel taglio subito il giro di palla ne guadagna avete visto la velocità con il taglio del cobra che è dato chilometri quadrati non sarà in forma non sarà ancora nel pieno del gioco del Cassano però la carica anche i compagni vede che il valore aggiunto si vede anche da queste piccole cose effettivamente anche i giocatori sanno che la palla è data in cassaforte ah bravo ancora una bella parata di Luca col manone bravo che ha scaricato bene un po' in crisi e poi il capologimento in fonte Marco Fantinato che diagonale ragazzi che diagonale velocità tripla dei difensori che arretravano può cambiare semplicemente l'inserimento di un giocatore esperto che si prende carico di portare avanti la squadra da così a così in 30 secondi una carica bestiale Fantinato ha fatto una roba fantastica con il suo cambio di direzione e ovviamente bisogna difendere non abbiamo fatto nulla siamo ancora lì 23-24 però adesso sotto passivo Cingoli deve tirare eccolo lì ha capito tutto Fantinato va che va vorrebbe qualcuno che lo aiutasse vediamo prendi sta palla su Fantinato scarica c'era qua dai non si è accorto ormai l'abbrivia partita quindi fermiamoci è rimesso laterale non so se si è fatto male io lì scaricavo io prendevo la palla e la davo a Tommy poi ne parlavo con l'arbitro era rimparcato il piede non era lucidissimo non era sano prima di perdere la palla stiamo calmi pensai di la rimetti non è che la perdi rimetti come se fosse tua se vuoi l'arbitro può sempre dire di no 10-20 e mezzo al termine è una rete di vantaggio però era un po' acciaccato palla importantissima non ha avuto la lucidità di accogliersi che Bassanese dietro di lui era completamente solo quindi non poteva fare una rimessa e Stefano era sì sì beh ma lì è la malizia che ti insegnano cambio scarico su Iba cambio di direzione ancora uh che brutto ancora i balli che viene due minuti colpito da Gesina un po' ingenuo questa è un po' esperienza di balli esatto un po' rubata lui un po' e balli ha detto arriva il treno io tolgo i piedi vediamo cosa succede infatti ho volato un po' ingenuo Giacomo Bincoletto un po' di mestieri perché ha visto che arrivava il giocatore che sarebbe stato sicuramente irritato quindi non ha fatto nulla per evitare il contatto ha detto tolgo i piedi è stato costretto a fischiare questo due minuti è volto là come una pelle di stracchino perché tanto dosso mi viene bravo e balli questo è un'utile di experience di Aldini Balli abbiamo detto riprende il gioco una rete di vantaggio ma 120 secondi di superità numerica 10 al termine però avete notato che quando abbiamo aumentato un po' la velocità è andato un po' in crisi la difesa del cingolo Bortoli possa mai ancora Bortoli uno contro uno per i balli deve risalire bravo la Dacchis ha intuito tutto gli ha rubato il palleggio vediamo cosa fa Luca qui ci vorrebbe un miracolo ma non avviene la toccata ma normalmente parità settima rete per la Dacchis vai 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 doppia inferiorità possa mai ma dai due minuti infatti gli ha dato una trambata pazzesca per non fargli scaricare la palla non l'ha guardato non l'ha guardato ha detto sono l'ultimo non deve fare il passaggio il passaggio per Bassanese era decisamente lungo fuori misura però abbiamo capito sinceramente io me l'ho perso a contatto io avevo sentito U e poi ho visto la palla per terra tu l'hai visto e soprattutto diciamo che ho sentito l'arbitro l'arbitro l'ha visto in maniera netta per averla sbagliata così di aver preso il treno e infatti ho preso il treno eh sì ovviamente adesso il 5 li sta sforzando però è 24-24 Luca non so non abbiamo fatto ancora nulla no no eravamo in vantaggio sono solo pareggiato solo che adesso loro sono in doppia inferiorità numerica però bisogna darsi da fare segnare subito e andare a recupero palla su ragazzi un po' di movimento dai eh così palla per Stefano questa volta gli è arrivata e se la palla gli arriva le percentuali dall'ala sono buone noi sapevamo dobbiamo fare un gol in 15 secondi e poi è grande addirittura quasi marcatura uomo più due ci ha messo un quarto d'ora a ripartire e attenzione perché in questo momento il i cingoli ha fuori due uomini quindi probabilmente non gioca la sua pedia quindi doppia inferiore numerica due uomini in più per la difesa del Cassano sono tutti lì guarda attenzione perché si inventa un gran gol in doppia inferiorità ragazzi come si fa a far tirare un uomo eravate lì in sei dai due difensori in più a disposizione ma sono stati gestiti malissimo erano densità c'era ma quando avanza per fare un tiro disperato così tu devi uscire a due metri non c'è il pivot e te lo porti fuori ancora schema per Bassanello la difesa del cingoli è due uomini in meno quindi ovviamente non può coprire le ali adesso marcatura sul numero 4 c'è un altro che riesce a tirare che è quello l'altro sino sinistro ce ne sono due da curare non uno due c'è la Zacchese e quell'altro cioè se in attacco abbiamo fatto il nostro verbo perché dopo l'unità numerica le ali sono sicuramente libere però in difesa ingenuità e ancora una volta meno male ci mette una pezza dai ragazzi c'è triple inferiorità vai erano un 3 in difesa possa mai conta no 6-6 contro 3 con il difensore lì si è perso l'occasione intanto rientrato il primo giocatore per i cingoli ancora fa 20 secondi rientrerà anche il secondo vediamo se si riesce a approfittare si manda il tiro Bortoli l'azione c'era è buona però la palla sopra la traversa che brutta scelta in superiorità numerica Luca che brutta scelta ovviamente doppio vantaggio non gestito bene neanche benino diciamo così così due gol sono stati realizzati ma un gol è stato concesso all'avversario e non si è sfruttato appieno i 4 possessi palla in quei 2 minuti e mezzo di inferiorità in superiorità numerica si è andato a tirare alle stelle va bene bisogna resettare ripartire da capo ancora un gol di vantaggio ma che buona buona contro piede per Bassanese contro Gentilozzi si fa ipnotizzare con l'aiuto del palo la devia sul palo quindi ancora uno di fatto è lunga ancora lunga ragazzi bisogna soffrire qualche errore ma non bisogna perdersi d'animo il tag che gol cosa ha fatto la Dacchis eh sì sì due minuti ci sono è vero c'è lui li voleva spendere corretto Fantinato ha speso il fallo il fallo duro ma grandissima azione del giocatore del Cingoli una delle più belle cose viste in questa partita fallo schiacciato a terra in caduta con il colpo in avanti ha liberato la cerniera ha lanciato una palla l'unico tiro che poteva fare il movimento che poteva fare in caduta bellissimo gli è valso il gol e due minuti per Fantinato molto bello 26 pari ragazzo l'avevo detto comunque durissima che poi le grandi inferiorità numeriche le ha subite il Cingoli sì sì Cassano non ha accolto l'occasione per riportarsi in avanti chiaramente non per chi va a partire ma per guadagnare ancora quei due o tre gol di vantaggio è a partita ancora in perfetto equilibrio 26 pari sarà lunghissima ora volante volante portali per i balli dicevamo che forse l'affiattamento non è ancora al 100% però qualche segnale si vede in inferiorità numerica Luca questo qua molto bello gol importante soprattutto per il morale dei ragazzi bisogna i balli ha fatto quello che doveva fare quando è entrato ha fatto gol ha fatto buttare fuori due minuti guarda che momenti la prendiamo attenzione però e ancora Monciardini fondamentali anche difende possa mai fondamentali anche i portieri perché ci sono state quelle tre parate di Illici nel primo tempo ma anche Luca questo spezzone secondo tempo ha già messo due crocette forse anche tre tre crocette su personale tabellino di Cassio per Luca Monciardini poi concentrato in pochissimo tempo e in un momento topico della partita bravo Luca sei al termine una letta di vantaggio un minuto ancora di inferiorità numerica da scontare e però possesso palla abbiamo segnato un'inferiorità numerica non abbiamo preso il gol in inferiorità numerica non è male c'è il Davidino che scrive come un matto che si può fare ah c'è tutte le azioni da andare cavole bestiale c'erano poi le estrazioni degli highlight estrae estrae di best del Davidino forse partita non bellissima nel suo complesso qualche spazio però insomma alcuni attimi intensi li abbiamo vissuti sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista del patto e poi anche della tecnica siccome dicevi te dei grandi bei gest eh non c'era più spazio ancora Gentirozzi eh non c'era più spazio primo pallo eh sì l'inferiorità di best del Cassano Gentirozzi ha coperto il primo palo che solo lì cerca lo sfondo non lo trova e ancora Radakis è bravo che è giocatore lì molto bravo credo ci sia giocatore la panchina perché continua a poter stare Collez era già stata munita in precedenza quindi gol di Radakis che riporta un momento in parità e segnaliamo doppia cifra per Radakis decima rete per lui e soprattutto due minuti alla panchina del Cassano quindi per 20 secondi doppia inferiorità numerica eh l'ha vissuto anche il Cingoli così però se l'è cavata la grande è anche segnato 4 contro 6 adesso vediamo noi stiamo per entrare negli ultimi circuiti di gioco fuori Fantinato che ha ancora 19 secondi a scontare fuori momentaneamente Dorio per il due minuti della panchina poi ricordiamo in caso di cambi Dorio può comunque entrare in campo mentre Fantinato deve aspettare 19 secondi perché era lui l'artefice del fallo e quindi il destinatario della sanzione di espulsione ripende gioco 4 contro 6 4 contro 6 per Cassano ovviamente fanno passare i 10 secondi ma non vanno a fare neanche pressing Possamai uno contro uno scarica per i balli cerca un compagno non ce ne sono intanto rientra Fantinato e stiamo sotto passivo però va che va va che va grande rigore rigore difesa in area grande Possamai in mezzo a due in inferiorità numerica grandissima chiama Time Out chiama Time Out l'allenatore del Cingoli grande grande Possamai cosa ha fatto chiama Temato nel 35 prova a sostituire il portiere cioè il tempo non è temato ma viene fermato perché c'è stata richiesta di Gentilozzi di far entrare il collega e compagno quindi con numero 1 Albanesi Francesco e Thomas Bortoli sulla linea dei 7 metri è una palla che scotta Luca eh ma con Bortoli pallone sempre feddo Iceman Glaciale abbiamo 28 Cassano 27 cingoli quanto ne ha fuori il Cassano c'è parità numerica adesso pare che sia già scontato perché il tabellone non vediamo nulla quindi credo che siano già potuti rientrare beh ma non era in due minuti mi sembra strano sinceramente wow altro apparatore di Luca io non vedo però i ragazzi in campo sono 5 probabilmente si è resettato il tabellone ma daranno di Cassano infatti perché il Cassano era appena rientrato Marco sicuramente un'altra in mezzo di Corez c'è da scontare intanto però ancora Antic va a impattare nuovamente sarà una partita da gustarsi fino all'ultimo secondo per i deboli di cuore tenete a portata di mano le pastiglie perché esce il portiere abbiamo l'extra player extra player per il Cassano bello anche Ilic che va a complimentarsi con Luca a scambiarsi ancora consigli per sempre questa forte collaborazione tra gli esseri difensori del Cassano ci piace segnalare anche questa nota di colore tanto li prende il gioco possa mai i balli possa mai e va a realizzare Coppa tiene lui sulla partita la rete tiene sulla squadra i balli e possa mai devo dire che sono stati grandi in questa fase di partita ecco qua che recuperiamo tutti gli effettivi quindi si riporta in 5-1 Thomas Bortoli riuscisse a rubare una palla adesso sarebbe il momento giusto per fare un anticipo degli suoi sì esatto 29-28 più uno Cassano tre al termine è lunga è lunghissima Antic la Dachis ancora lui ancora Antic doppio blocco del pivot poi scarico per Strapini è una cosa che si faceva dieci anni fa ma funziona ancora blocco su secondo molto bella giustamente se l'hai guadagnata anche la marcatura a Strapini perché il merito è tutto praticamente suo con un movimento di blocco su secondo dall'interno parità il centrale lo vede e gli dà il momento di rientro e quindi parità 2.25 al termine mannaggia mannaggia Luca vediamo sia Palazzi che Coles con Cartanide temato in mano quindi ovviamente se li giocheranno in questi minuti Fisnali possa mai litiga un po' con la palla e permette a Rotaro di interromperne la velocità balli passivo Cantinato va in uno contro uno scarica sotto a traversa ma sotto fallo però attenzione perché due passaggi sono già andati quattro i passaggi rimanenti prima di perdere il possesso palla per gioco passivo altri due sono già andati ancora la volante replay questa volta con Fantinato ho capito che guardavo Fantinato perché gli ho detto perché va a sinistra dopo l'ho capito ancora grande grande 1-2 i balli Monciardini doppio volante di balle prima sul servizio di Bortoli questa volta sul servizio di Fantinato Cassano che rimane più uno e poi la palla del più due stiamo per entrare nell'ultimo minuto di gioco e c'era un chilometro quadrato dove entrare non c'era nessun difensore eccola qua l'abbiamo chiamato time out di Davide Collez a 28 e 57 tutti che si vanno a commentare e complimentare con Monciardini eh sì ha tenuto in piedi la squadra è un momento ovviamente difficile e poi soprattutto c'è da segnalare l'entrata a pieno titolo nel gioco del Cassano di Ardian Iballi eh assolutamente oggi si è sentito il suo ingresso in campo speriamo sia sufficiente perché ragazzi siamo ancora più uno a un minuto dal termine possesso palla quindi attenzione però nulla ancora scritto quindi il finale di questo match è ancora una pagina bianca da scrivere completamente eh sì avevamo detto che era una squadra ostica che il Cassano non se la doveva portare attaccata alla fine della partita e doveva aumentare il ritmo la metà del secondo tempo Cingoli è stata fantastica iniziata in difesa e ha spaventato un po' il Cassano recuperato da meno 4 meno 1 e poi lì si è andato a punteggio sembrava quel più 4 dell'intervallo che poi si è riuscito a mantenere anche per i primi 6-7 minuti un gol segnaliamo anche alcune parate importanti di Gentilozzi nel secondo tempo quindi anche lui è stato artefice di belle parate quindi ha permesso i suoi di sui 6 lui ha tenuto in piedi la squadra sicuramente un paio ancora sul meno 4 che ha permesso alla squadra di rimanere aggrappata di non pascapare il Cassano e poi decisivo Gentilozzi eh sì chiaramente non ti concedono molto margine in questo siamo nell'ultimo punto di gioco Fantinato uno contro uno sarebbe importante segnare realizza Marco completamente fuori mano perché era un terzino esterno lui che è mancino gol importantissimo di Marco Fantinato manca 25 secondi alla fine a più 2 Cassano wow fallo ancora siamo in attacco 25 secondi deve segnare Cingoli per tenere aperte le speranze a meno di un pareggio infatti c'è sì c'è da pulire per terra perché è caduto Fantinato credo ci sia anche il time out di Palazzi mi sembra sì vedo il commissario che ha fischiato quindi probabilmente c'è stato un time out sì sì time out time out che tutti vanno in panchina c'è già la pubblicità il Davidino non perde neanche un colpo time out Cingoli però diciamo questo gol di Fantinato è stato importantissimo potrebbe essere il gol della vittoria però attendiamo sono ancora 25 secondi di gioco è più 2 possesso palla Cingoli quindi se dovesse anche segnare a meno che non faccia delle vabbè comunque vediamo un attimino Cingoli adesso ovviamente deve andare a tiro e segnare in pochi secondi poi cercare di rubare una palla che noi speriamo fortemente i nostri ragazzi decidano di non perdere in maniera ignominiosa esatto visto che di palle perse Cingoli ne ha perse soprattutto sul nostro cronometro ci sono 20 secondi ma mi sembra che sul cronometro ufficiale ce ne fossero qualcuno in più adesso vediamo quindi dovrebbero essere 31 secondi alla fine quindi siamo perfettamente allineati con il cronometro di gara sempre preciso e perfetto l'ottimo Davide Bianchi l'ottimo attenzione ruba a palla possa mai ma ovviamente commette infazioni d'aria perché ricada in aria con la stessa ponte a riprendere il gioco bisogna uscire 10 secondi intercettato alla fine ruba a palla poi recupera ancora Rottano quindi potrebbe essere solo il primo tiro 7 metri vediamo se è stato fermato il tempo non mi sembra quindi la sirena è suonata vediamo se poi ci sarà solo possibilità di fare tirare il rigore quindi tiro dai 7 metri e finisce la partita andrà Antic a tirare però poi non ci sarà spazio per null'altro quindi teniamo solo il tiro per stabilire quale sarà il punteggio finale ma vince il Cassano in Cascina due punti per il Cassano poi va a suggerire l'ottima prestazione Luca Mociadini neutralizzando anche questo tiro di Ivan Antic quindi punteggio finale 31 a 29 mannaggia mannaggia Cassano come da pronostico porta a casa tiene a casa i due punti però sicuramente non è stato un match semplice anzi sicuramente buon Davide Collez vada da riguardarsi questo match riguardare insieme ai ragazzi perché tante cose interessanti che hanno funzionato l'ingresso di di Balli in regia in cabina di regia sicuramente una nota positiva però qualcosa da registrare sulla difesa che nel secondo tempo sicuramente non ha funzionato l'attacco senza idea ci hanno messo una pezza i due portieri sicuramente però c'è da migliorare c'è da lavorare intanto professava lavoro Collez e dopo questo match sicuramente continuerà a farlo e così sarà bene noi vi ringraziamo qua da Palazzetto Tacca risultato finale Cassano Magnago in Boclub 31 Polisportiva Cingoli 29 e io saluto e ringrazio tutti i nostri collaboratori Davide Cenci alla telecamera Davide Bianchi alla regia tecnica Cassio Peti in voce insieme a me insieme a me che io e noi ringraziamo tutti Luca Basile e dal Palazzetto Tacca chiudiamo questa terza giornata della Serie A Beretta eravamo all'ultima partita in programma con il classico buona Palamano a tutti ciao ciao grazie 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 grazie